Le forze di sicurezza indiane hanno arrestato oltre 500 persone da quando lunedì il governo ha revocato unilateralmente lo statuto speciale della parte della regione contesa della Jammu e Kashmir sotto il controllo di Nuova Delhi. Ai domiciliari anche molti politici locali. Negli scontri di ieri sera a Srinagar, la capitale locale, un giovane manifestante è morto e altri sei sono stati ricoverati in ospedale con ferite di arma da fuoco. A breve è atteso il primo discorso di commento del premier nazionalista indiano Narenda Modi, forte della vittoria schiacciante nelle elezioni di due mesi fa. Risponderà forse anche alla rottura diplomatica annunciata ieri dal Pakistan che non invierà a Nuova Delhi il nuovo ambasciatore ed espellerà quello indiano. Lo statuto speciale della valle del Kashmir, per la quale India e Pakistan, entrambe potenze atomiche, hanno già combattuto diverse guerre, era garantito dal 1947 dalla Costituzione indiana e ribadito da una risoluzione ONU l'anno successivo. Per il quarto giorno consecutivo, questa che è l'unica regione indiana a maggioranza musulmana è paralizzata. Le comunicazioni sono sospese, chiusi, uffici pubblici, scuole e ospedali. C'è molta attesa quindi per quello che dirà il premier Modi, ma dal sito del ministero indiano arriva già la risposta che sa di avvertimento a Islamabad. Il Kashmir è un affare interno e quelle del Pakistan sono mosse unilaterali. Per la serie non vi mischiate.